Ricerca shock, Brescia e Bergamo primi in Europa per numero di morti a causa dello smog. Risponde l'amministrazione con assessore Cominelli, dati non confrontabili, lo posiziona l'attacco con la Bordonali che parla di 7 anni di immobilismo. La pagina Facebook, Brescia che non vorrei pubblica i furbetti della monnezza e denuncia il mancato intervento del Comune. Ora ufficiale, Davide Dionigi sarà il tecnico del Brescia anche per la prossima stagione e anche per Sabelli confermata la partenza. La Commedia delle Pentole continua a cucinare per te anche in questo periodo con tutti i suoi piatti pronti per l'asporto. Menù di lavoro dal lunedì al venerdì, menù alla carta a pranzo dal lunedì alla domenica, a cena il giovedì, venerdì e sabato. Il menù spiedo, venerdì e sabato a pranzo e cena la domenica a pranzo. Chiama Maurizio, prenota il tuo asporto al 340-061-2225 e passa a ritirarlo in via Zara 125 a Brescia. La Commedia delle Pentole, tutto il nostro menù è anche sulla nostra pagina Facebook. Buonasera dal telegiornale, non potevamo non aprire questa edizione con la ricerca shock che è arrivata dall'Università di Utrecht sulla qualità dell'aria a Brescia ma anche a Bergamo e soprattutto sul dato pubblicato che indica come le due città siano prime in Europa per il numero di morti a causa dello smog. Sentiamo i dati. Che l'aria di Brescia non fosse la migliore d'Europa lo si sapeva ormai da anni. Uno studio condotto però dai ricercatori dell'Università di Utrecht e di altri enti preposti certifica una situazione tutt'altro che felice, parlando di Brescia e Bergamo come le città con il tasso di mortalità da particolato fine PM 2.5 più alto del continente. Nelle prime dieci posizioni di questa poco lusinghiera classifica stilata dagli esperti figurano anche altre due città italiane. Vicenza si trova al quarto posto e Saronno all'ottavo. Stando a quanto riportato da Anso, lo studio analizza anche la mortalità da biossido di azoto e NO2, con Madrid come città con maggior numero di decessi in Europa e Torino e Milano rispettivamente al terzo e al quinto posto. I risultati mostrano che 51.000 morti premature da PM 2.5 e 900 da NO2 potrebbero essere evitate ogni anno se le città prese in esame riducessero i livelli dei due parametri inquinanti raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Applicando le linee guida dell'OMS sul PM 2.5, a Brescia potrebbero essere evitati 232 morti l'anno e a Bergamo 137. Facendo lo stesso con l'NO2, a Torino ci sarebbero 34 decessi in meno e a Milano 103. Il Comune di Brescia, l'amministrazione, ha replicato a questo studio con un comunicato nel quale ha invitato a analizzare i dati contenuti nel primo osservatorio Aria Bene Comune pubblicato dal Comune di Brescia proprio pochi giorni fa. Abbiamo raggiunto anche l'assessore all'ambiente Miriam Cominelli che ha detto che i dati non sono confrontabili, quelli presi in esame perché troppo datati dallo studio dell'Università di Utrecht rispetto a quelli analizzati dal Comune proprio in questo primo osservatorio Aria Bene Comune. Sentite un breve intervento dell'assessore Cominelli che poi potrete sentire in integrale nella puntata che segue questo telegiornale di 7.5. L'Università di Utrecht ha preso questi dati che sono di 5-6 anni fa su IPM 2.5 e voi dite guardate che sono dati di 6 anni fa, quindi sono molto vecchi, ma rispetto ad oggi questo valore è possibile capire quanto era e quanto è per avere un termine di paragono di come si sono evolute nel frattempo le politiche ambientali? Beh, allora si può dire che, ripeto, invito di nuovo ad andare a vedere il nostro rapporto perché ci sono dei grafici molto chiari che mostrano come ci sia un calo rispetto alla presenza degli inquinanti nell'aria e dall'altra parte anche una diversa incidenza del tasso di mortalità. Io ora dovrei leggervi le pagine del rapporto, risulterei piuttosto noiosa, ma quello che ci tengo a dire è che è vero, è un tema complicato, è vero però anche che le azioni che sono state messe in campo, anche e soprattutto dal Comune, hanno dato dei risultati e si vedono in termini di riduzione del tasso di mortalità piuttosto che di riduzione della presenza effettiva degli inquinanti all'interno della nostra aria. Tutta la nostra chiacchierata, vi invito a seguirla a 7.30, intorno alle 7.45 oggi perché, come sempre, in questi giorni diamo spazio alle 19.30 alla puntata di Calcio Mercato, ma ospite di 7.30 stasera ci sarà anche Massimo Bresciani che abbiamo raggiunto con del tavolo Basta Veleni che abbiamo raggiunto per una valutazione, una breve anteprima. I dati relativi alla qualità ambientale per quanto riguarda le PM10 e soprattutto le PM2,5 che sono ancora quelle più pericolose perché hanno un diametro ancora inferiore rispetto alle PM10 e quindi entrano nell'organismo direttamente passando attraverso gli alveoli polmonari fino all'interno delle cellule. Ecco, noi siamo sempre fuori dai dati stabiliti e certificati dall'Unione Europea. I parametri dell'Unione Europea stabiliscono da anni che la realtà atmosferica dal punto di vista ambientale è sistematicamente fuori, ovvero siamo fuori legge rispetto a questi parametri. Quindi ognuno di coloro che dovrebbero prendersi a cuore le sorti ambientali e in questo caso anche di tutela della salute delle persone dovrebbero spiegarci perché tutti gli anni Brescia è fuori dai parametri di legge. E' molto critica con l'amministrazione comunale anche Simona Bordonali e consigliere comunale di opposizione della Lega in Loggia. Brescia è un triste primato, è la prima città a livello europeo per numero di morti per PM10. Questo certifica il fallimento della giunta del bono per quanto riguarda la politica ambientale. C'è la necessità di un intervento, di un intervento strutturale sia sulle politiche ambientali ma soprattutto sulla revisione del trasporto pubblico cittadino. La Lega c'è per una revisione e per una programmazione. La Lega ha già un progetto che non è quello del tram che andrebbe semplicemente a sommarsi al trasporto su gomma e alla metropolitana già presente. Un tram che è vero, non è un mezzo di trasporto inquinante ma non risolverebbe il problema del trasporto e dell'inquinamento di Brescia. Il problema del trasporto e dell'inquinamento per Brescia si realizza solo ed esclusivamente con una politica lungimirante sul trasporto ovvero utilizzare quel mezzo di trasporto per eccellenza che già abbiamo, la metropolitana e prolungarla nelle zone di Brescia dove oggi non è presente e nelle direzioni verso la provincia di Brescia da dove arrivano ogni giorno numerosi cittadini della provincia per arrivare in città a lavorare. Quindi la necessità di intervenire su una struttura già esistente anziché iniziare i lavori per una struttura che oggi non c'è dove le strade ristrette in questi anni danno una difficoltà di percorrenza per quanto riguarda il tram e quindi di conseguenza l'inquinamento non migliorerebbe ma anzi con le auto in coda dietro al tram probabilmente peggioreremmo ulteriormente. Noi siamo disponibili a sederci al tavolo con il sindaco, con la sua giunta, con l'assessore Manzoni perché c'è la necessità di vedere insieme quale sarà la città del futuro una città che noi non vogliamo abbia ancora questi tristi primati. Chiudiamo questa pagina, apriamo quella dedicata al Covid-19 con i dati che arrivano dalla regione Lombardia pubblicati nel pomeriggio li trovate sul nostro sito internet elivebrescia.tv eccoli qua e il dato principale è quello della positività al 4,8% quindi i tamponi sono stati 38.593 i nuovi positivi 1.876 c'è subito il dato ancora una volta negativissimo di Brescia che porta il numero dei nuovi positivi a 373 quindi un numero abbastanza alto il più alto rispetto alle altre province bresciane Milano con la provincia totalizza oggi 434 nuovi casi e anche il dato sui relativi ai decessi, ai morti per Covid nelle ultime 24 ore continua a essere purtroppo molto alto 66 sono le vittime 3 persone in più ricoverate in terapia intensiva e altre 31 persone in più ricoverate nei reparti ospedalieri non di terapia intensiva questi sono i dati tutti gli altri li trovate sul nostro sito internet come vi dicevo e in queste ultime ore è arrivata anche una lettera da parte degli psicologi parliamo di scuola relativamente alla situazione Covid perché hanno appunto evidenziato agli psicologi quale impatto negativo sia la didattica a distanza per gli studenti oltre 6 ragazzi su 10 fra i 14 e i 19 anni tengono molto alla didattica in presenza oltre il 50% ne soffre molto la mancanza così si sintetizza lo studio effettuato dall'ordine degli psicologi in merito al delicato tema del ritorno in classe in presenza il 67% dei ragazzi intervistati afferma di non avere problemi con le dotazioni tecnologiche e gli altri, quelli che manifestano difficoltà lamentano invece l'assenza o cattiva qualità della connessione quasi tutti i giovani intervistati in definitiva sentono la mancanza della scuola in presenza e il 98% a settembre era felice di poter rientrare in aula il sentimento prevalente in questo momento fra i giovani italiani è purtroppo negativo e si traduce soprattutto in tristezza, malinconia, paura, rabbia e distacco i sentimenti positivi sono purtroppo minoritari probabilmente il dato più allarmante è che solo il 2% dei giovani italiani in questo momento riferisce di provare gioia o allegria ha dichiarato il presidente dell'ordine Davi Lazzari un malessere psicologico che deriva dall'isolamento e dall'assenza o carenza delle attività educative ma anche ludiche e sportive torniamo a parlare di comune ma in relazione a una situazione in evoluzione da un punto di vista industriale che si sta registrando in queste settimane ovvero il passaggio di proprietà dell'Iveco oggi a prendere posizione è stato il sindaco Emilio Del Bono che ha scritto al ministro dello sviluppo economico Patuanelli alla luce della notizia dell'avvio di una trattativa di CNH Industrial con soggetti economico-finanziari cinesi per l'Iveco il sindaco Emilio Del Bono ha scritto al ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli per chiedere che il ministero tenga sotto stretta osservazione la situazione il primo cittadino ha evidenziato la necessità di un raccordo fra il ministero oltre che con CNH e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori anche con il governo della Repubblica Popolare Cinese per poter garantire la produzione e l'occupazione nello stabilimento bresciano negli scorsi mesi infatti il comune e la provincia di Brescia avevano condiviso le preoccupazioni e l'impegno dei lavoratori dello stabilimento Iveco di Brescia e di tutte le organizzazioni sindacali perché fosse rispettato l'accordo aziendale riguardo all'importante investimento da 24 milioni di euro che rende possibile la riconvenzione della produzione da camion elettrico si tratta di una prospettiva, ha sottolineato il sindaco, necessaria perché l'azienda decisiva nella vita economica e sociale della città e della provincia di cui è simbolo ormai da più di un secolo possa recuperare livelli produttivi in grado di assicurare la tenuta occupazionale in continuità col suo patrimonio di professionalità e di coesione Gli hanno chiamati i furbetti della monnezza è la pagina Facebook, molti di voi conosceranno Brescia che non vorrei che da anni denuncia situazioni per le quali è richiesto l'intervento in modo particolare dell'amministrazione comunale e con questo servizio Brescia che non vorrei ancora una volta sottolinea da una parte i furbetti della monnezza dall'altra invece l'immobilismo del comune dicendo che da 50 giorni hanno segnalato agli uffici competenti questa situazione ma ancora nessuno si è fatto vivo Nasce l'hashtag furbetti della monnezza Nasce ovviamente dai social e più in particolare dal gruppo Facebook Brescia che non vorrei Come è facilmente intuibile dal titolo di questa particolare campagna il tema al centro dell'attenzione è l'abbandono illegale di rifiuti che secondo i promotori è ben presente nella nostra Brescia Come spesso accade sui social la campagna si articola in una serie di post corredati di video censurati di quegli individui beccati in varie zone della città ad aprire i cassonetti come si faceva una volta quando le calottine non esistevano per gettare carrelli di spazzatura Si vede chiaramente che il cassonetto è aperto illecitamente in pieno giorno ci vengono spontanei alcune novande scrivono dal gruppo Per quale motivo una persona ha bisogno di aprire in questo modo e per più giorni il cassonetto per smaltire rifiuti indifferenziati? Come mai è così semplice aprire i cassonetti visto e considerato che il trucchetto è ormai un'abitudine in moltissime parti della città? Sicuramente questi atteggiamenti vengono sanzionati ma qual è la percentuale delle multe effettivamente incassate? Tutti interrogativi che vengono rivolti all'amministrazione comunale stando che ha postato questi contenuti i video dei cosiddetti furbetti sono stati inviati alle autorità nella speranza di ottenere un rischio Caccia di frodo ma soprattutto senza porto d'armi è caduto a Verola Nuova e sono intervenuti i carabinieri Una pattuglia dei carabinieri di Verola Nuova stava effettuando i consueti controlli nei pressi del cimitero del paese quando ha udito degli spari d'arma da fuoco a poca distanza Per capire cosa stesse succedendo i militari si sono addentrati nei campi circostanti e non è servito molto per raggiungere un pensionato del luogo che stava cacciando di frodo all'arrivo dei carabinieri il 57enne stava proprio raccogliendo gli uccellini appena abbattuti la successiva perquisizione ha permesso di scoprire il bottino della battuta di caccia illegale dell'uomo tre petti rossi, quattro fringuelli, quattro luccherini e un passero ad aggravare ulteriormente la posizione del braconiere il fatto che fosse privo di porto d'armi a questo punto è scattata la denuncia a piede libero per porto d'armi in luogo pubblico e furto venatorio nuova operazione antidroga questa volta e ancora una volta potremmo dire in via Milano 200 grammi di hashish suddivisi in due panetti e ben nascosti nella sua abitazione di via Milano sono stati ritrovati durante una perquisizione degli agenti della polizia di stato impegnati nel contrasto all'attività di spaccio nella nostra città l'intento del 25enne tunisino era ovviamente quello di suddividere questa grande quantità di droga in dosi per la vendita in quello che la questura ha definito market dello spaccio locale sempre nell'appartamento di via Milano infatti le divise hanno ritrovato il perfetto corredo dello spacciatore con bilancino di precisione e tutto l'oncorrente per impacchettare le dosi per il giovane sono scattate le manette e l'arresto è stato convalidato la mattina successiva dal giudice breve pausa e poi apriamo il nostro TG Sport sapete che ci sono due ufficialità nel Brescia Calcio un arrivo e una partenza puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast sanificare e sterilizzare tutti i vostri ambienti da oggi è diventato un gioco da ragazzi con Apollo è la sola forza del vapore Buonasera anche agli abici sportivi allora è ufficiale l'abbiamo anticipato ieri e anche nei giorni precedenti che si sarebbe lavorato e che Cellino avrebbe lavorato al rinnovo di Davide Dionigi è arrivata oggi la conferma sarà sulla panchina del Brescia fino a giugno 2022 Arrivato appena poche settimane fa per mister Davide Dionigi è già stato preparato un prolungamento di contratto se l'accordo in essere fino ad oggi prevedeva una scadenza a fine stagione ora il tecnico siederà sulla panchina delle rondinelle fino al 2022 Brescia Calcio comunica il rinnovo del contratto di Davide Dionigi fino al 2022 si legge in una nota sul sito della società di Via Solferino l'allenatore Emiliano è alla guida tecnica della prima squadra dal 10 dicembre 2020 dopo le esperienze ad Ascoli, Catanzaro, Matera, Varese, Cremonese, Regina e Trento Cellino stupisce quindi tutti di nuovo e dopo le voci di un imminente esonero dopo la brutta prestazione di Pisa mette tutti a tacere con questa firma e c'è anche un'altra ufficialità di Sabelli che viene quindi ceduto direttamente all'Empoli lo trovate anche sul nostro sito internet ecco qui la notizia che arriva direttamente all'ufficialità della società Brescia Calcio comunica la gestione di Stefano Sabelli l'esterno romano arrivato nell'estate del 2018 passa al club toscano all'Empoli a titolo definitivo parliamo di basket ora con date e orari per le tre partite della Germania la Lega Basket ha ufficializzato date e orari delle partite della 17, 18 e 19 giornata del campionato di basket di Serie A dopo la sosta forzata dovuta al rinvio della partita casalinga con Varese causa Covid la Germania Brescia sarà di scena contro la Virtus Bologna nell'anticipo della seconda giornata del girone di ritorno in programma sabato 23 gennaio alle ore 20 la sfida casalinga della 18esima giornata contro Treviso sarà disputata invece domenica 31 gennaio con inizio fissato alle ore 18 l'ultima gara del campionato prima delle Final 8 di Coppa Italia da cui Brescia è già tristemente esclusa da tempo vedrà la Germani impegnata sul campo dell'Allianz Palacanestro Trieste la sfida sul campo dei Giuliani si giocherà domenica 7 febbraio alle ore 12 ci fermiamo qui con questa edizione del giornale vi ricordo che tutte le notizie le trovate sul nostro sito internet liveabrescia.tv sul quale come sempre trovate anche la diretta del canale 16197 di eLive in questo box espandibile a tutta pagina le nostre notizie possono raggiungervi anche sul vostro telefonino se vi iscrivete ai nostri canali Telegram eLive Brescia News oppure eLive Brescia Sport vi lascio tra pochi istanti a Calcio Mercato con Fabio Pettenoa vi ricordo che la diretta è tutte le sere alle 18 precise sulla nostra pagina Facebook la pagina Facebook di eLive mentre qui in TV sui canali 16197 di eLive alle 19.30 e alle 23.20 poi ci ritroviamo alle 19.45 circa per 7.30 e parliamo ovviamente di questo rapporto dell'Università di Utrecht su questo drammatico primato di Brescia e Bergamo dove sono due città in cui sono primi in Europa per numero di morti a causa dello smog ai nostri ospiti avremo Miriam Cominelli Assessore all'Ambiente del Comune di Brescia e Maurizio Bresciani del Tavolo Basta Veleni grazie per essere stati con noi vi ricordo anche alle 22 l'appuntamento con l'Atlanti del Pallavolo Brescia la sintesi grazie per essere stati con noi e buona serata puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione eLive Play del nostro sito internet puoi ascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast Grazie a tutti Grazie a tutti